Forse voi non lo sapete, ma io adoro i giochi dove ci si deve incazzare Bellissimo a tutti raga, oggi siamo su Story of Man Duck Ovviamente prima di iniziare questo video lasciate mi piace, commentate il video Che bello Funziona con i pezzi No, adesso mi voglio sparare Ovviamente prima di iniziare questo video vi chiedo semplicemente di iscriverti per la cappellina Ovviamente di lasciare mi piace Detto questo, mi sto domandando che cazzo Abominio di giochi cos'è? Ma sono morto No, non dimmi che mi avrei fatto tutto Quindi non devo premere Q Non devo premere Q Non devo Dai posso schifare questa roba Allora, il fatto che non si può saltare è schifante Non posso saltare, grazie a me Ma ci può, ma non si può saltare Ah, ok Ok, si può fare il doppio salto allora Con i... No, no, no Madonna di quella Madonna Non è possibile, iniziamo bene Ci ho messo un quarto dove ho saltato per capire Non ti... Ok, ok Ho fatto Quindi uno Ma un gigante Cosa faccio? Posso rifare i campi di gioco queste? Allora Ma come lo passi? Come lo passi? Non è possibile Ma mai nella vita è una cosa così? Non è possibile Cosa? Il primo X posso cagare in faccia ai nemici? Cos'è? Ma cosa... Ma cosa sto giocando? Ma... Ma merda Cioè, beh, sì, effettivamente Che bello cagare addosso le persone per poi ucciderle Dimmi che... Dimmi che ho un altro livello Oggi Se non è un altro livello Non so che... Come si è passato Che cosa è certo? Ok, questo lo potevo passare Potrebbe succedere che lui... Cosa è successo? Sono andato troppo sopra Ok, fin qui l'ho capito Adesso c'è un po' Madonna che brutto Sono diventato immortale Che bello La stella di Super Mario E' un unicorno Una papera Ok Porca tro... No, ho sbagliato, ho sbagliato Ok Non sono morto Non so come Guarda se non mi crolla qualcosa sopra No, ma non sul nemico Non atterrare sul nemico Madonna Guarda se adesso non esplodo Succede qualcosa Mi aspetto di tutto da questo gioco Cos'è? Ma cos'è? Io continuo a saltare Perché non mi fido affatto di questo gioco Ok Mi... Lo... C'è... Me lo sentivo proprio nel cuore Fatta notte Eccoci Mi dovete spiegare che cosa è quella roba E me lo... E... No, sì, c'è Certo, come... Adesso il problema è salire Forse ho capito come si fa Cioè Quello col naso non è un nemico Ma è... È una specie di punivia Non mi faccio più salto Ma perché andi... E ricadi, e ricadi E porco il demonio schifoso Ti sai reggere in un pixel Ti sai reggere in un pixel Madonna Oh non ci credo Oh non ci credo Se non c'è checkpoint mi ammazzo Eh sì, vabbè Ciao Non è possibile E vai a cagare E vai a cagare Tu, tua sorella Il tuo cane È complicato il suo gioco L'avevo preso L'avevo preso L'avevo preso L'avevo preso Bello che adesso non mi ricordo Dove... Dove... Ok, Luca Ok Un dildo Non mi ricordo il nome del Pokémon Qua c'è tipo un muro Non posso passare sopra Quindi devo per forza No, no, non potete capire Che caga che c'ho adesso Perché dimmi che c'è un checkpoint Perché altrimenti ti ammazzo Te quel cogli... Il creatore che ti ha fatto Checkpoint Santa Madonna Un checkpoint No, 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 no C'è la mamma Cioè, avete la mamma putt No, è vero Come fai a... Come faccio a passare adesso Come... Porca putt... Ce l'ho fatta a trade Perché sono tornata dietro Perché sono tornata indietro Porca di quella bro C'è la una fine questa merda Oppure devo stare al terzo livello Per tutta la vita No, 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 no Una patata nera piccante Non è possibile È infattibile, no Ma che poi si muova su YouTube Non la trova questa cagata, no? Cioè, solo io sto portando questo gioco così Bene ragazzi Se vi è piaciuto questo video Lasciate un mi piace Commentate se volete commentare Condividete il canale Teagan, Twitter, Instagram Ci c'è tutto quanto in descrizione Iscrivetevi e attivate la campagna Che vi ricordo che uscirà un video nuovo Ogni lunedì E averti alle 14.15 Condividete il video E noi ci vediamo nel prossimo capitolo Non riusciamo neppure a parlare Quindi figurati Bellissima Non riusciamo neppure a parlare 16.15 Grazie a tutti.